Se mi si chiede se è giusto dare la figura di vicepresidente ad una forza politica del 4,5% la risposta non è un no per cattiveria, loro non farebbero al contrario la stessa cosa. Non c'è la discussione, questa discussione sta diventando ovviamente falsificata nelle sue fondamenta, sta diventando quello che sta diventando perché ovviamente è probabile che si voglia nascondere altro. Lo vedremo, evidentemente ci sono degli accordi con la maggioranza che verranno fuori, in qualche modo mi pare evidente che Renzi non abbia smentito che hanno sostenuto la maggioranza, vedremo.